Benvenuti vicini di casa e buon halloween! Dolcetto o scherzetto? C'è altro dopo la morte? Siamo davvero l'unica forma di vita nell'universo? Chi pulisce più di Chanteclair? Queste sono solo alcune delle domande a cui l'umanità ancora non ha trovato risposta. In questa speciale occasione appunto per celebrare questa festività andremo, o quantomeno cercheremo di rispondere a uno di questi quesiti. Oggi andremo a concentrarci sull'occulto, sul paranormale, motivo per cui oggi ho preso il mio microfono e sono venuto qui, in questa casa apparentemente infestata, abbandonata. Ma prima di cominciare devo chiedervi una cosa. Voi ci credete ai fantasmi? No? Pensate che non esistono? Beh, invece qui esistono, su Fasmophobia state pur certi che esistono. Fasmophobia, o Fasmophobia come preferite, è essenzialmente un cacciatore di fantasmi simulator. Capirete molto presto, non appena inizierà il video, quali sono le meccaniche, come funziona in generale il gioco, cosa c'è da fare, in sostanza. Dunque preparatevi a quest'avventura vicini di casa, perché state per assistere ad apparizioni, jumpscares e fenomeni paranormali di ogni sorta. cacciatore di essere Sì, cacciatore di in un comandante, ma chi è tu, Fausto? è qui a fare canestri space jam va casa piccola a quartier generale io entro passo Barbara Martinez che nome di merda Barbara d'Urso mi sa che è qua mi sa che è qua trovata 12.5 13.1 poi andate a 15 comunque siamo qui qua vicino beh di sicuro è meglio di 16 12 ma è bello bar che è oh ha vibrato un telefono allora mi sa che è là pronto carabinieri are you here? no niente non mi ha risposto oh a 5 urca l'avevo detto non basta con la rossa di mf5 can you hear me? can you speak? ma secondo voi c'è scritto can't run can't run o can't can't run run ti prego big eh Barbara d'Urso Barbara d'Urso ci sei? guardala guardala c'è l'impronta impronta pure sul pure sull'armadietto qua che ci manca allora? che parla normale Barbara sei qui? ma sì ma sì pure sull'armadietto lascia l'impronte sei qui dentro nell'armadietto con me Barbara martinez di quello come la trigger Barbara martinez oh 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 no no sono morto sono morto sono morto no 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 porca di quella ma eh conta ma sovviste lì ma faccia pure io no ma io dovevo morire lì però eh eh raga ce l'avevo addosso ce l'avevo addosso oh 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 darko madonna adesso si impronta revenant vaffanculo vaffanculo Barbara martinez vedi questo è perché tu l'hai spiegata e quando la comincia a chiamare il nome lo spirito si incazza facile tant'è vero che poi si è caricato pausto sì ma il bello è che ha ammazzato lui che non era manco dentro la stanza abbiamo rischiato la vita per 65 dollari sto stonks giocando anche con noi così a professionale impari ancora più velocemente perché vabbè sicuro da subito ti si può inculare per cui non c'è manco il tempo a dire cerchiamo con karma così c'è di essere da subito reattivo guarda 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 big guarda big guarda guarda big c'è un white big ma albe sta ancora in canale che guarda ma solid c'è beh però non fiata consensiante no devi dire dacci un segno devi dire dacci un segno sennò non funziona Come andiamo? Come abbiamo sempre fatto, a cazzo di caro! Spettrale! Tutti gli alberi morti! Quant'è che ci stanno parecchie uscite ai lati? James Brownstown High School! Tu pensa a farle ria da queste cose! Madonna! Eh, l'hai già detto! Due coglioni quadrati, Sir! Città vicino casa mia! Ci sta... Non so se l'hanno smandellata... Ah! Però ci stava praticamente una tappa di villetta diroccata che era praticamente diventata sedere nelle esse nere! Urca! Ci stava una marea di gatti morti! E poi ci stava tipo una sorta di percorso... Che alla fine... Ti... Prende ti diceva... Vai qua, vai su, vai giù! Alla fine ci stava davanti a uno specchio rotto che ho scritto salta! Dio mi ha protetto che non me l'ha fatto fare! Aveva alzato lo sguardo sopra di me c'era un chiodo... E se saltavo mi penetrava il cranio! Minchia! Bruttissimo! Che figo! Oh! Mi sono entrato in un'aula e ha squillato il telefono! Dove? E dove? Adesso non lo so di preciso dove! Sopra? Sotto? Sopra? Sono sopra? Ti vedo con la torcia che fai... Ogni tanto... Ti giri! Che fai flash! Ah! Sto a fare il richiamo! SOS! Ha squillato di nuovo! Perfetto! Perfetto! Eh rispondi! Eh adesso! Un attimo! Tanto sarà un... Tanto il 90% sarà un call center! Pronto! I just call... To say... I love you! Uh è qua! È qua! È qua! È qua! È qua! È qua! Quattro gradi ragazzi! È qua! Si sta anche agitando eh! Si sta anche agitando eh! Che sta succedendo? Vedendo eh che è morto in real! È... È morto in real life! No! No! So vivo! So vivo! Attività al 10! Attività al 10! Chiudere! È finita! È finita! Ti dimete sì perché ho messo più ciò sotto! Chiudere! Comunque costa orbe! Sfere di luce! È un'ombra! Maria Braun! Maria! Maria! Ma se che tu sei? Maria! Sf! Puttana ci sei! Ci sei! Puttana! Ci sei! Maria Braun! Maria! Vai via! Dacci un segno! Sapete perché non viene? Debolezze! Lo spirito non entrerà in modalità di caccia a meno che finché ci sono più persone nelle vicinanze! Ma l'ombra questa eh! Vai uscite! Rimango io! Ora siamo soli Maria Braun! Siamo soli... Solo io e te Maria Braun! Oh! 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 Eccola! A me mi sei chiusa davanti alla faccia! Eh! Big! Eh! Luppa! Eh! Non la vedo! Maria Braun! Torna ti prego! Non abbiamo avuto modo di presentarci come si deve! Come stai avendo a prendere uno di noi due Marco? Eh sì! Maria Braun! Dai! Oh! 8 secondi! Cioè 8 attive! Salve Maria Braun! Salve! Mi è apparsa? Smile for the camera! Ok via! Fuori dal cazzo! Ciao, ciao! Oh! 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 Eccola! алr Oh! Puttana troia! Giondi de G pulling! Giondi de GРUGG! Giondi de G traumach coverage! Sì, ok. Ha scritto sul libro! Perfetto, dai dai dai! Live or die! A cavallo, a cavallo! Hai visto perchè me lo porta appresso? Perchè a volte fa sta cosa. Quindi, Spirit Box e Ghost Briding. Mi guardi se c'è? Uh, arriva! Mi guardi se c'era questo del davantino sporco? Sì, c'è da scattare una foto. Ok, fai glielo. John Brown. Guarda questo. John? Grazie per aver risposto, John. Hai visto come mi sono buggato? Hai vedi la torcia che esce, tipo dal muro? Sì, sì, t'ho visto, t'ho visto. John! Bello sto arredamento, John. C'è anche da uomo. Oh, ha risposto, ha risposto! John... John, mi dici le specifiche tecniche del tuo PC? Ho fatto la foto al cadavere. Mi metterlo in testa! Vabbè Darko... Se hai bisogno sai dove trovarmi! Perfetto, allora. Però non ho ben capito se Casper ti sente se parli sia con V o con B o solo con uno dei due. Sì, ti sente sempre. Ti sente sempre. Anche che non parli in chat di gioco il riconoscimento vocale è sempre attivo. Dio è qua. Oddio! Oddio, è qua! Oddio, è qui! Oddio! Oh mio Dio! ci sei porca puttana porca puttana Darko porca puttana Darko guarda che muoio eh guarda ragazzi questo non mi si caga non so che fare susana mi succhie il cazzo per favore mi succhie il cazzo troia dai succhiemi il cazzo dai vieni qua e succhiemi il cazzo posso andarmene ora no big ti fai una foto col cazzo che mi fai la foto non riesco non riesco a fare la foto ho fatto la foto ce l'ho fatta sta là sta là sta là alla dbd no 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 Kiri Kiri è lì il fantasma è in corridoio vai seguilo Darko permesso non vorrei disturbare salve lascio questo regalino qua va bene è un problema ne lascio uno anche qui u condensa il fantasma è Donald Trump Donald Thompson niente sei democratico o repubblicano? posso vedere Donald mostrati davanti a big do you want to make America great again? show us show us the wall porca puttana show me ti voglio fare sissi con la testa Donald si si vai sissi con la testa Kiri vuoi sapere la brutta notizia? che il phantom è quello che se fai la foto scompare e nei prossimi episodi di Phasmophobia scrivetelo sul libro a temperatura di congelamento è qua! è qua! ho quella puttana vai oh mio dio oh mio dio che vista oh mio dio Sfere di luce Dove sei? Sfere di luce Lascia, lascia, Stivo No, o è la scatola? Oh, lo vedo! Attività 10 No, 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 no Te non mi inculi adesso, no, no No, 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 no Fottiti, fottiti, fottiti Ragazzi, è sotto Eh, mi prendo a me Oh, io me ne vado, io me ne vado Chiudi la porta, chiudi la porta No, hai il contenuto d'arco Sì, ma che stronzo che sei Dove vai, Pink? Perché te ne vado? È lontano da te, assassino Perché? E allora, vicini di casa Che ne pensate di Fasmofobia o fobia? È un gioco che sta diventando sempre più di moda Ci saranno sicuramente degli aggiornamenti Con nuove mappe Nuove funzioni Nuove robe E sicuramente ci saranno altri video in futuro Su Fasmofobia È molto semplice come gioco Ma Davvero Se avete degli amici con cui giocarlo Ve lo consiglio Se ti sei rotto le palle di DVD È un'ottima alternativa Fatemi sapere che cosa ne pensate Iscrivetevi al canale E grazie per aver visto questo special Questo video Buon Halloween di nuovo E stay big Buon Halloween di nuovo Buon Halloween di nuovo Buon Halloween di nuovo Buon Halloween di nuovo